Musica Le risate, le bevute, le battute, tutta questa gente intorno Serviranno a qualche cosa, non mi pare, ogni sera ci ritorno Amici ci troviamo al rifugio degli Asinelli a Salabiellese con Barbara Massa responsabile del centro rifugio Allora innanzitutto come funziona, che cos'è questo rifugio degli Asinelli? Allora siamo la sede italiana di un'organizzazione inglese che è il The Doki Century che da oltre 40 anni si occupa di tutela e cura di asini in particolare, asini muli e bardotti in realtà La nostra fondatrice che è la dottoressa Svensen ha avvenuto fortemente anche un progetto in Italia perché prima di tutto noi siamo geograficamente posti in maniera strategica, quindi al centro dell'Europa e quindi con l'altro centro della Spagna, quello di Ciclo, riusciranno un po' a fare rete a coprire varie esigenze a livello europeo In più la popolazione con casinina italiana è decisamente in aumento e con essa purtroppo anche tanti casi di maltrattamento perché noi stiamo seguendo anche in varie maniere Tra questi gli ultimi casi che riguardano anche il sorteggio di un nome sono al centro dell'attenzione di questa festa di compleanno del quarto anno del rifugio degli Asinelli Esatto, in realtà la fondazione nasce nel 2006, però abbiamo aperto al pubblico agosto 2009 e quindi tutti gli anni ricordiamo il giorno di apertura con questa grande festa in cui organizziamo giochi per i bambini, attività educative insomma, tante attività diverse per attirare un po' di pubblico e farci conoscere sempre di più Gli ultimi Asini maltrattati sono quelli arrivati da Colleferro Da Colleferro, sì Ok, quindi vicino a Roma Esatto, è un maxi sequestro che è cominciato grazie alla denuncia di Italian North Protection ai tempi e strisci alla notizia, che l'aveva mandato in onda a gennaio e attualmente in collaborazione con loro, con l'Empa Nazionale e l'Ufficio Tuttele Animali del Ministero della Salute abbiamo sequestrato e spostato oltre 200 animali presso affidatari, presso persone private che ci hanno fortunatamente dato una mano accogliendo questi animali quasi tutti in condizioni pietose perché venivano letteralmente abbandonate nei campi di fammi di sete Bene, grazie Barbara noi sappiamo i giochi e i festeggiamenti di oggi un'ultima cosa per chi volesse visitare mettersi in contatto, aiutare, avere informazioni il modo più semplice ormai abbiamo verificato essere in web come si fa? Allora, buvo ilrifugiadegliasinelli.org Benissimo, grazie Barbara Grazie a te Io sono l'asino con la pelle di l'olune che non riesce a ragionare ma vuole sempre aver ragione Io sono l'asino che vuole essere un leone che anche se non serve niente che anche fosse solamente un'invenzione Grazie a te